L'associazione Mountain Wilderness presenta un manifesto da proporre ai candidati alle politiche ma anche ai prossimi politici che si impegneranno nelle amministrative che ci attendono in primavera per un impegno sulla nostra montagna ricca di grande potenziale ma forse poco sfruttata. Sì, innanzitutto noi abbiamo notato che durante questa campagna elettorale l'oggetto della montagna e delle problematiche della montagna non sono state poi molto al centro dell'attenzione. Per questo abbiamo aspettato un po' il termine per proporre questo manifesto. Non si tratta altro che 15 punti, 15 punti molto importanti a nostro avviso che vanno dall'impegno che potranno prendere i futuri eletti al Parlamento e quindi sulla legge delle aree protette che si sta rivisitando. Chiediamo l'impegno sempre sul nostro acquifero e attraverso anche la indizione di una commissione d'inchiesta parlamentare sia sui lavori svolti dal commissario perché dobbiamo ben capire gli 82 milioni di euro che cosa mai sono andati a finire e nello stesso tempo chiedere anche una commissione per quelli che sono i lavori che vengono svolti dai laboratori di fisica del Gran Sasso e per una messa in sicurezza dell'intero acquifero. I punti continuano ad andare sull'impegno nei confronti dei piccoli comuni di montagna e quindi investimenti che vanno a favore di questi piccoli comuni che dall'altra parte tutelano biodiversità, tutelano le foreste e quindi il vantaggio di avere questa azione da parte loro è un vantaggio che va a tutta la collettività che secondo noi deve essere ben in qualche maniera remunerato. Insomma 15 punti che chiediamo di prendere in mano e di poter far trasformare in atti concreti. Ma a seguito della campagna, quando finirà questa elezione, quindi dal 5 marzo in poi penseremo ad un incontro pubblico con tutti coloro che hanno aderito a questo manifesto.